Shida Mb Sfai al servizio Lisa Shida Mb che è rifatta una posizione importante e la seconda videogame Sfai al servizio Lisa Shida Mb che è rifatta Grazie a tutti. Sono due giapponesi ad essere le migliori seconda e terza ricettrici del mondiale in destra classifica, che sceglie Mirta Rishkort dell'Enema. Grazie a tutti.